Madonna è stilentice stasera. Sono Ginevra Nuti e sono qui per ritirare a nome di mio padre il premio alla carriera che Book for Peace 2021 ha deciso di indicare a lui. Mi dispiace non essere fisicamente presente all'evento e anzi ci tengo a ringraziare Book for Peace, la bellissima iniziativa che ha messo in atto e anche Antonio che in questi mesi mi ha tenuta costantemente aggiornata sull'evolversi dell'evento. Mi si riempie sempre il cuore a sentire tutto l'affetto verso mio padre e verso di me come conseguenza e soprattutto mi rende molto fiera che la sua arte e le emozioni che mio padre ha deciso di trasmettere tramite la sua arte vengano costantemente apprezzate e riconosciute. Quindi un grandissimo abbraccio e ringraziamento sia da parte mia che da parte di mio padre. Grazie. 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 Grazie.